Ma è un demonio steso fra di noi, ti manca quindi puoi non crederlo, ma io non mi sentivo libero. E non è dolce essere unici, ma se hai un proiettile ti libero, gli errori veri sono più forti poi. Quando fatti in Italia stai morti, lo stai, compriti di se ti senti in fretta, ma è la pressione bassa dell'alena. Come strano il sapore che riesco a sentire, male di piede, male di piede, male di piede. E' la grandezza della mia morale, per funzionare al mio successo, così l'ho rifatto, l'erchio è meglio sai, che sembra non ci abbiamo dormito mai. Come strano il sapore che riesco a sentire, male di piede, male di piede, male di piede, male di piede. Maledi piede, male di 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 piede. Grazie.